Associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico finalizzata all'incitamento alla violenza per motivi razziali. Questi reati, per cui stamani sono state emesse 11 ordinanze di custodia cautelare in carcere e arrestate tre persone, tutte facenti parte o vicine, ad un'associazione clandestina denominata Avanguardia Ordino Vista. L'operazione, compiuta dai ROS, ha coinvolto i territori di parecchie province nel nord e nel centro Italia, tra cui Roma, ma soprattutto in Abruzzo, dove aveva sede la base operativa del gruppo. I provvedimenti scaturiscono da un'indagine, partita nel 2013, dopo alcune segnalazioni sui social networks. Di tali canali l'organizzazione si serviva per veicolare messaggi eversivi, incitando allo stesso tempo all'odio razziale, in particolare nei confronti delle persone di colore. L'indagine ha accertato come la struttura riproponesse i parametri tipici delle organizzazioni eversive di destra, in particolar modo traendo ispirazione dal disciolto movimento politico fascista, Ordine Nuovo, e fosse alla costante ricerca di fondi per finanziare l'acquisto di armi, in particolare Kalashnikov. Il gruppo aveva addirittura stilato una nuova Costituzione della Repubblica basato su un ordine marcatamente fascista. Le indagini hanno tra l'altro intercettato la pianificazione dell'assassinio di un ex appartenente al gruppo, ritenuto infame perché legato ai servizi segreti. L'organizzazione, ha rivelato il procuratore distrittuale antimafia dell'Aquila, era comunque pronta all'azione e l'intervento dei Ross è arrivato poco prima che si concretizzasse l'acquisto delle armi dalla Slovenia.